Una lince russa, pensate che, è andata ad attaccare una donna, moglie di un uomo, precisamente a Bulgaria, nella parte settentrionale della Carolina, la North Carolina, la Carolina del Nord. La scena infatti è stata ripresa da una telecamera di video sorveglianza, questa lince ha attaccato questa donna nel viaggio di casa, Eppi, questo è il nome dell'uomo, del marito però, è intervenuto e pensate che ha salvato la vita all'amata moglie. Ripeto, teatro di questa vicenda, luogo, è la Carolina del Nord, la North Carolina, Stati Uniti d'America. Il marito Eppi, ripeto che significa italiano felice, ha veramente salvato la moglie, ha fatto un atto davvero straordinario, emblematico, che rimarrà nel cuore di tanti, del più. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, il video termina qua. Ripeto, la città è Burbieu, nella parte della North Carolina. Ciao a tutti, l'Ariato, un narratore italiano di YouTube Italia, iscrivetevi e al prossimo video, una buona giornata a voi.